3 giugno 2023 a ora, 5 mesi dopo la morte di Benedict, il tempo per la gentilezza è finita, a Roma, continua Welt. Cosa succederà a padre Giorg, sulla base ciò che traspare, dovrà lasciare il Vaticano per tornare a Friburgo, diocesi cui è incardinato e inoltre senza responsabilità appunto per lui si era parlato passato possibile nomina come nuncio apostolico Costa Rica, una sorta esilio d'oro che non avrebbe escluso ripresa carriera ecclesiastica nel tempo.Perstare decisione non solo pubblicazione nothing but detruta anche prima della celebrazione del funerale Ratzinger lo scorso gennaio, ma anche le interviste. Rilasciate quel momento.6 mesi dopo morte benedetto, Giorg viene presentata il conto.